584 euro, insomma, mi hanno lasciato un po' la marombocca, anche perché è stata una vicenda che ha colpito in primis me che ho subito il danno e, insomma, come si dice, oltre al danno la beffa. Era lo scorso 6 marzo quando Matteo Contena, ventotenne pastore di Ponticino, scaricò in piazza Guido Monaco la carcassa di una pecora sbranata da un lupo. Questi sono lupi, quelli che a me mi portano via al futuro. Fategli le foto, le devono vedere tutte. Un gesto eclatante e crudo che ha accese numerose polemiche, dettato dall'esasperazione dovuta agli attacchi subiti. Adesso, però, all'allevatore è arrivato il conto da pagare 584 euro. Si tratta delle spese per il recupero della carcassa dalla sede stradale per il trasporto e il successivo smaltimento, sostenute da Sei Toscana. Deluso, deluso assolutamente. Da, insomma, chi mi dovrebbe tutelare, chi mi dovrebbe aiutare, mi danno anche le stangate, insomma. È stata proprio una cosa carina. Parallellamente c'è anche un fascicolo aperto per inosservanza di provvedimento emesso dall'autorità. All'allevatore viene infatti contestato che avrebbe dovuto togliere dalla rotatoria la carcassa. In mezzo a una folla, in mezzo a una piazza, c'era la gente, avevano formiche. Lei mi deve capire come io faccio a sentire una cosa simile in mezzo al delirio. Nel frattempo è anche nato il Comitato Resistenza Pastorale per chiedere maggiori tutele. Vi posso garantire che situazioni come la mia ce n'è senza un conto. Ce n'è mille, mille. E sono più quelli che non lo dicono che quelli che lo dicono. Non vogliamo risarci menti. Noi vogliamo la serenità del nostro di grege, del nostro di lavoro, perché con quello campiamo. Noi non vogliamo l'elemosina. L'ho detto in Piazza Guidomono, quello ridico oggi. Io non voglio l'elemosina. Io voglio che il mio lavoro sia rispettato. Voglio che i miei diritti siano come quelli degli altri.